allora l'incontro di questa sera serve intanto per fare un piccolo informarvi del consultivo di come stanno andando le cose di come sono andate di come di quali sono i passaggi futuri e poi per presentarvi un ragionamento su quelle che sono le strategie di comunità ovviamente un ragionamento ancora aperto per cui possiamo parlarne insieme ragionarci insieme e le prossime scadenze allora io partirei l'ipotesi è quella di chiudere alle 6 possiamo chiudere prima e cercare di non chiudere dopo così ognuno ha un orizzonte temporale allora questa è l'ultima riunione per quanto riguarda gli attivatori nel senso che è la quinta dell'ultima riunione di questo tipo ne abbiamo già fatte altre quattro con tutti gli altri attivatori in questo momento gli attivatori che ancora sono presenti sono circa un'ottantina più o meno rispetto ai 104 diciamo di partenza dobbiamo fare in questi giorni insomma a settembre faremo un riscontro faremo un consultivo delle presenze perché voi sapete che abbiamo anche da rendicontare il numero di presenze per ciascuno e vediamo poi se questi 20 ci sono assentati non con continuità o con continuità ci parliamo un attimo e vediamo che cosa fa comunque la risposta è buona nel senso il numero degli attivatori che ancora ci segue dopo ormai 6-7 mesi di incontri è per noi abbastanza elevato insomma quindi va bene e ci seguite con una qualità che in alcuni casi è veramente notevole in altri casi è informazione ricordiamoci che quello che noi stiamo facendo è un percorso anche formativo per cui noi stiamo tenendo un livello comune in maniera tale da non perdere nessuno basato anche sulle capacità medio basse di ciascuno perché tra di voi ci sono molte persone che hanno già fatto esperienze simili a quelle che stiamo praticando anche se mai come le stiamo facendo noi però simili o che hanno delle capacità già consolidate nell'ambito dell'attivazione sociale però visto che noi ci serve andare tutti insieme in qualche maniera abbiamo determinato insomma un livello che è accessibile o è stato accessibile a tutti quanti nelle prime fasi adesso piano piano che andiamo avanti le cose si complicano un pochettino nel senso mettiamo altri fattori aggiuntivi cercando sempre di seguire tutti quanti in maniera tale che non lasciamo per strada nessuno o per lo meno mettiamo nelle condizioni tutti di seguire poi se uno se ne vuole andare non c'è nessun problema ovviamente da parte nostra quali sono stati i problemi più significativi che abbiamo incontrato? questa parte di solito la farrà nero ma adesso la faccio io perché la nero come si diceva non c'è allora ci abbiamo avuto una grossa difficoltà nell'organizzare una diffusa difficoltà nell'organizzare i primi incontri in presenza e questo ci ha un po' allungato i tempi nel senso che ancora adesso ci abbiamo quattro territori che debbono fare il primo incontro abbiamo detto domani ci sarà Siaco ma c'è la Valle d'Aosta ci abbiamo che lo farà il 20 agosto ci abbiamo un Monserrato insomma ci abbiamo una serie di cose che spesso non è di peso dagli attivatori ma è di peso dalla difficoltà di trovare gli attivatori o ai noi in due o tre casi ci sono state delle condizioni di salute degli attivatori stessi che ci hanno quelli che avevamo scelto, che avevamo definito che hanno dovuto farci cambiare le persone concordamente con loro ovviamente e questo ci dispiace indipendentemente del nostro progetto per lo stato di salute dei nostri amici questa è stata la più grossa difficoltà che abbiamo affrontato poi tendenzialmente c'è stata una risposta abbastanza omogenea ci sono alcuni ambiti che sono un po' più veloci e quindi reagiscono un po' più rapidamente ci sono degli altri che sono un po' più tranquilli ce ne sono alcuni che hanno una partecipazione molto estesa siamo arrivati a 34, 35, 36 persone in presenza in tre o quattro gruppi altri che hanno ancora delle difficoltà di attivare e questa è stata la seconda difficoltà che noi abbiamo incontrato ovvero sia sulle 20 situazioni ce ne sono qualcuna che viaggia un po' sotto la media in termini di interazione con le comunità che cosa stiamo facendo? su ciascuno di queste situazioni, non dico di crisi ma insomma di maggiore difficoltà noi facciamo delle riunioni specifiche nel senso cerchiamo in qualche maniera di capire dove sono i nodi di questa questione come possiamo dare una mano per risolvere questi problemi e in alcuni casi li stiamo risolvendo insomma sempre grazie alla disponibilità da parte degli attivatori dei segretari regionali e della struttura di cittadinanza attiva quindi anche su questo seppure con più difficoltà noi siamo abbastanza contenti per quanto riguarda le persone che invece hanno maggior voglia maggior interesse e maggiore disponibilità di tempo di poter, di voler lavorare con noi noi non mettiamo freni nel senso che se c'è qualcuno di voi che vuole fare di più di quello che sta facendo noi siamo contenti possiamo organizzare insieme possiamo costruire insieme delle attività aggiuntive o approfondire quelle che stiamo facendo in maniera tale che si possa lavorare di più per chi c'è disponibilità e noi abbiamo pensato a due cose una prima è che quella che nel momento in cui qualcuno di voi volesse fare qualche cosa in più si mette d'accordo con qualcun altro nel senso di altro attivatore o locale ci chiama e noi facciamo delle riunioni in questo momento ci sono arrivate 7-8 richieste di maggiore attivazione da parte degli attivatori e quindi noi immaginiamo che verso settembre possiamo fare un incontro in cui cerchiamo di mettere in ballo nuove questioni e un'altra cosa che abbiamo ipotizzato che si possa fare è quello di fare delle ricognizioni fotografiche che è una cosa abbastanza semplice che si può fare per chi ha disponibilità o per le persone anche che partecipano ai laboratori che vogliessero fare basta usare lo smartphone e un whatsapp mandarci per esempio delle situazioni di criticità che ha individuato nel territorio con un piccolo commento un'altra cosa che si può fare e ho completo così è il fatto che voi avete sicuramente preso nel corso del laboratorio qualche appunto vostro se ce li mandate in word per capirsi anche appunti molto semplici due righe, una riga noi questa roba la infiliamo all'interno delle relazioni che stiamo componendo e le arricchisce quindi ci sono intanto tre sistemi per poter partecipare di più il primo è quello di fare queste ricognizioni fotografiche con commentate su problemi sempre ritornando all'oggetto del primo laboratorio quindi problemi e risorse per capirsi e ce li mandate commentati e noi li infiliamo all'interno delle restituzioni che stiamo facendo la seconda è quella di mandarci le vostre noti i vostri spunti i vostri stimoli che avete avuto parlando con gli altri quindi essenzialmente relazionandosi sempre con il laboratorio quindi non le vostre idee ma le vostre impressioni del laboratorio o dei temi che sono emersi nel laboratorio che vi sembrano particolarmente interessanti e alla fine se tutto ciò non vi soddisfacesse siamo a disposizione per costruire altre attività che possano arricchire il nostro percorso prima parte di comunicazione si completa qua ci sono delle osservazioni da fare su questo ci avete delle riflessioni delle ragionamenti del sottoporci su questo primo tema ovvero si è come è andata fino adesso ah un'altra cosa vi dico dato che noi non ce la facciamo è chiaro che noi non ce la facciamo a seguirvi tutti quanti direttamente abbiamo stiamo costituendo facendo una piccola scheda che vi manderemo a settembre sulla quale voi potete aggiungere tutto ciò che volete sia in forma di osservazione sia di riflessione sia di proposizione questa scheda la stiamo predisponendo adesso durante queste cose in maniera tale da aumentare il contatto diretto con noi qual è il nostro la nostra difficoltà è che ogni volta che noi facciamo un incontro in questo caso è il quinto di questo tipo però ogni volta che facciamo laboratorio noi lo dobbiamo rifare per 20 se immaginate che ogni laboratorio si accompagna mediamente con due o tre incontri informali fatti con gli attivatori noi da qui a ottobre a novembre siamo occupati tre sere a settimana certe volte anche quattro sere a settimana e che è un impegno piuttosto significativo poi dobbiamo elaborare quello che ci diciamo quindi se no ci potremmo vedere anche di più ci farebbe piacere anche lavorare insieme di più però abbiamo questo limite e questo vincolo che è la quantità della questa convenzione questa attività finanziata e la complessità con cui è stata elaborata e scritta detto ciò allora voi avete avuto la restituzione nel secondo laboratorio di quello che abbiamo fatto nel primo tutti quanti avete visto la restituzione allora quando parliamo di laboratorio parliamo laboratorio mappe lo chiamiamo primo laboratorio tutti quanti avete visto la restituzione dei materiali del primo laboratorio qualcuno di voi non l'ha vista le vostre io non l'ho vista come posso avere adesso te le facciamo chi è che le fa girare Erika Alessandra facciamo un rapido riassunto di quello che va bene così ce l'abbiamo tutti uguali e poi passiamo alle strategie scusate un attimo Alessandra tu è pronta quella di Stagia sì sì condivido io partiamo da Stagia Stagia è diventata famosa perché è stato il primo laboratorio fatto e quindi noi stiamo sperimentando tutto su Stagia ma non c'è niente di particolare a Stagia insomma non è che sono più o meno bravi degli altri gli è capitato di essere i primi a farlo in ordine cronologico e quindi noi su quella possiamo lavorare per primi allora questo è il prodotto che molti di voi già conoscono che riguarda la restituzione quindi noi ci siamo visti la prima volta e abbiamo incamerato delle informazioni che ci venivano date all'interno del laboratorio l'abbiamo elaborato e le stiamo restituendo quindi negli incontri che si faranno tra qui a settembre che completeranno perché mi pare che adesso già quattordici l'abbiamo fatto quindi ce ne mancano sei sette dei secondi incontri quindi ce ne mancano cinque dei primi e ce ne mancano sei sette forse anche otto dei secondi però tutta questa roba finisce a settembre come si presenta questa elaborazione col gruppo di lavoro che siamo noi la presentazione del progetto andiamo avanti la metodologia che abbiamo adoperato mappe di comunità strategie piano di resilienza il processo che discorrendo poi che cos'è il laboratorio che in parte questo materiale ce l'avete già avuto il laboratorio ed è un testo che invece dobbiamo scrivere e poi andiamo avanti i partecipanti chi sono i partecipanti a questa operazione qui ci sono scritti i nomi di tutte le persone le foto a voi bellissime che state qua che lavorate che in laboratorio sulla base delle schede che voi avete fatto entrando noi abbiamo cominciato a capire a individuare come sono che caratteristiche hanno i partecipanti quindi il sesso il titolo di studio il lavoro più alcune altre cose che sono relative a delle domande che ne avevamo fatto e cui avete dato le risposte e noi le abbiamo aggregate poi abbiamo estrapolato sempre dalle schede alcune frasi che voi avete scritto in questo caso non c'è una rispondenza tra la frase e la persona in cui si dice però ci sembrava carino interessante mettere queste frasi sono state prese sono state messe all'interno di questa tabella e questi sono i partecipanti dopodiché si va sui temi trattati ovvero sia ma qui ogni tanto c'è dei dati che in qualche maniera sono uscite le cose le mappe di comunità allora le mappe di comunità il primo passaggio arenate è stato è stato questo qua nel senso di elencare i problemi e questa qui è la tabella questa che vedete qui è la tabella come è emersa all'interno dell'incontro che è stato fatto quindi vi ricordate si scrivevano su delle lavagne questo è quello che è scritto sulle lavagne a destra ci sono state delle frasi che sono delle frasi delle riflessioni sintetiche dei discorsi che sono stati fatti questi li abbiamo fatti noi però è quello che avete detto voi dopodiché noi abbiamo detto aspettate per il secondo incontro aspettate ci sono alcune cose che vanno approfondite per esempio adesso qui non leggo ma ci sono delle domande che noi facciamo e ci sono delle questioni che noi abbiamo trovato per esempio presenti su internet o da letteratura o dalle riviste e giornali che però non ne avete parlato quindi noi che cosa facciamo durante il secondo incontro affrontiamo le problematiche riga per riga frase per frase cerchiamo di capire meglio se abbiamo capito bene se c'è qualcosa che non ci ha capito o se non è stato espresso bene quello che si voleva dire e poi verifichiamo se ci sono altri temi che non sono stati trattati nel primo incontro da qui esce fuori una nuvola di parole che sono le parole che sono maggiormente utilizzate all'interno del laboratorio i problemi emersi in via definitiva questi sono quelli che abbiamo elaborato a seguito del secondo incontro e l'aggregazione per temi ovvero sia i veri problemi emersi possono essere aggregati per temi andiamo avanti questa stessa cosa la facciamo sia per i problemi sia per le risorse in realtà non sempre nei laboratori nel secondo incontro del primo laboratorio siamo riusciti ad affrontare le risorse perché non c'è tempo non c'è stato tempo però era importante invece per noi comunque ragionare sui problemi poi dopodiché ci sono delle immagini del laboratorio sempre bellissime queste cose qua quella in presenza a destra quella in remoto e poi c'è la mappa di comunità la mappa di comunità che a livello cartografico viene rappresentata con questo tipo di linguaggio questo tipo di iconografia ovvero sia semplice in rosso sono i problemi in verde sono le risorse e si cerca di localizzare sulla mappa tutto quello che è emerso anche se non c'è una specifica collocazione geografica ma comunque di segnalare questo come e poi ci sono delle foto allora quando parliamo di queste foto che stiamo dicendo qua noi parliamo che queste qui possono essere tranquillamente incrementate da quelle che voi ci mandate con i commenti o degli altri riflessioni che possono stare tutte quante qui dentro le selezioniamo se sono tante se no ce le mettiamo tutte non c'è problema ed arricchiscono questo che è il primo capitolo diciamo di questo piano di resilienza questo l'abbiamo fatto in particolar modo per Sonia che non aveva visto questo documento mentre gli altri credo che ne avete già parlato nel secondo incontro e quindi l'abbiamo fatto un po' rapidamente andiamo a presso adesso ci togliamo da mezzo sta cosa e andiamo a vedere qual è il passaggio futuro andiamo all'altra un attimo solo che facciamo così poi condividiamo di nuovo allora qual è il nostro obiettivo adesso il nostro obiettivo è che è sempre stato quello del piano di resilienza perché diciamo che il nostro obiettivo è il piano di resilienza perché riteniamo che le comunità possono rafforzare la propria capacità di risposta a quelle che sono delle emergenze delle situazioni che non vengono generate all'interno della comunità stessa ma vengono dall'esterno abbiamo visto quanto le cittadini sono riusciti a aiutare a collaborare tra di loro per sostenere i problemi relativi all'emergenza sanitaria quanto volontariato c'è stato quanto è stato utile questo volontariato e abbiamo visto pure quanto i governi siano incapaci di risolvere un problema climatico ricordiamoci che quest'anno mi pare che stiamo alla 29esima COP quindi al 29esimo incontro internazionale sul tema dei mutamenti climatici quindi sono 29 anni che si incontrano i governi che non sono riusciti non a far aumentare le temperature ma neanche a ridurre le emissioni il che è molto più grave perché ridurre le emissioni immediato ridurre le temperature ci vuole 40 anni tutto questo quando centinaia di milioni di persone nel mondo hanno cambiato già politica personale e quindi hanno cambiato abitudini hanno cambiato modo di fare in ragione dei mutamenti climatici dell'inquinamento quindi questo dimostra che le comunità i cittadini seppure non tutti non completamente però hanno una capacità che invece i governi sembrano in questo momento non possedere o possedere parzialmente per carità per cui l'attivazione civica in qualche modo è un forte caposaldo di una strategia di autodifesa rispetto al variare di condizioni esterne e quindi per trovare qualche forma qualche equilibrio che in qualche modo sia più coerente con quelle che sono le necessità e i desideri delle comunità quindi il nostro obiettivo è il piano di resilienza per arrivare al piano di resilienza noi siamo partiti piano piano e abbiamo cominciato a dire quali sono i problemi e quali sono le risorse e l'abbiamo fatto come? Attraverso un laboratorio che voi avete già fatto che è il laboratorio 1 mappe di comunità che si è articolato in due incontri il primo in presenza e il secondo da remoto intervallati da due elaborazioni fatte dal gruppo di lavoro questo materiale noi ce lo prendiamo e ce lo portiamo appresso con noi e affrontiamo il tema delle strategie di comunità le strategie di comunità le affrontiamo alla stessa maniera e quindi con un incontro in presenza e un rincontro da remoto intervallati da elaborazioni e elaborazioni conclusive questo pacchetto delle strategie di comunità noi poi ce lo portiamo all'interno del piano del piano di resilienza perché questi tre pezzi sono tra di loro connessi individuazione delle risorse e dei problemi individuazione delle strategie per affrontare questi problemi individuazione delle azioni che andiamo a fare per migliorare le condizioni locali sia fatte da noi direttamente sia fatte o richieste alle amministrazioni competenti vado continuo ok se ci sono ovviamente domande sì una domanda vai Clara allora siccome l'elaborazione del primo laboratorio diciamo la prima elaborazione io la conosco e l'ho vista e l'abbiamo anche discussa poi durante l'incontro online che abbiamo fatto di recente però la seconda elaborazione è arrivata è già stata fatta o la dobbiamo ancora no non è stata ancora fatta le stiamo facendo in ragione di quello che voi ci avete detto in Codi arriverà prima delle strategie di comunità e sarà presentata all'inizio delle strategie di comunità agli altri immaginiamo che voi potreste avere per esempio delle persone ovviamente ci sono delle osservazioni poi quando ce l'avete ce lo dite le stiamo elaborando in questo periodo immaginatevi che noi possiamo trovarci in casi in cui le persone che arrivano non tutte hanno fatto il primo laboratorio per esempio e quindi noi rifacciamo l'ipotesi che stiamo facendo di rifare le schede diciamo di introduttive quindi ciascuno scrive che cosa ne pensa quelle che abbiamo già fatto quelle questionari e poi per chi non l'ha fatto il primo e poi dedicare i primi dieci minuti in quarta d'ora dell'incontro a raccontare quello che sono le elaborazioni fatte nel primo laboratorio in maniera tale che anche coloro i quali non siano stati presenti al primo laboratorio possano avere una infarinatura un'idea di quello che è stato fatto nel primo laboratorio e da lì partire ok va bene allora a questo punto noi possiamo forse passare io prego tutti coloro i quali abbiano la possibilità di mettersi in contatto col video di farlo ovviamente se ci sono delle difficoltà tecniche non ci sono problemi ok allora adesso stiamo parlando delle strategie definire le strategie è un problemone nel senso è un problemone anche per i pianificatori tant'è che spessissimo le strategie sono solamente come si dice abbozzate per esempio il PNRR ha una strategia centrale che è molto chiara e che è quella di dire se noi abbiamo una paccata le sordi e la diamo in giro creiamo occupazione e questo ci toglie dalla crisi economica ed è una strategia quindi prendi i soldi li do in giro li do tanti soldi tanti in giro faccio delle opere per cui posso far lavorare delle persone e questo mi risolve la situazione per esempio c'è anche una strategia sebbene un po' più morbida rispetto all'energia di che adesso siamo interessati alle energie da fonte rinnovabili però voi sapete pure che in questo momento stiamo molto ricercando fonti fossili per cui diciamo che è meno chiara questa strategia c'è una strategia per esempio per quanto riguarda l'investimento sull'agricoltura che dice che abbiamo bisogno per esempio di servizi all'agricoltura in particolar modo alla logistica e anche questa è una strategia come si diceva all'inizio Maria Chiara ci dice è un problema comune o sono io solo che sento a tratti voi come sentite? io bene noi sentiamo bene sì bene bene e allora mi sa che è un problema del resto non ero certa che la connessione fosse buona vediamo un po' se riesco ad andare avanti ho tolto il video per questo comunque hai fatto bene Maria Chiara grazie quindi ci sono delle sub strategie all'interno di questa però è sempre molto difficile capire le strategie perché sono delle scelte poi che uno fa se per esempio a un certo punto ho la strategia di ridurre i poveri l'obiettivo di ridurre i poveri io posso intervenire come si diceva nelle prime nei primi incontri posso intervenire o facendo delle piccole tassazioni sui ricchi o dando io giù con il 70% di tasse se superi ne so i 10 milioni al giorno di fatturato o di utile di 10 milioni l'anno per cui insomma ci sono anche in quel caso strategie differenti all'interno dello stesso oggetto però è fondamentale definire le strategie e anche in questo caso nelle strategie le vogliamo stabilire insieme ai partecipanti andiamo avanti eccoci qua quindi questo l'abbiamo detto andiamo avanti allora il primo laboratorio ce lo siamo detti adesso qui lo vediamo rapidamente ma l'abbiamo già visto abbiamo le mappe di comunità ok i problemi emersi a posto le risorse emerse e la mappa ok questo è il ragionamento sulle strategie di comunità allora il giorno in cui noi ci incontriamo ci abbiamo una prima attività che è l'attività 1 in cui presentiamo quello che è le mappe di comunità la seconda attività che è un ragionamento che afferisce quelle che sono le connessioni tra l'azione locale e le azioni globali le azioni locali individuate e quelle globali perché spessissimo questo collegamento tra il locale e il globale non c'è non c'è nella consapevolezza di coloro che partecipano per cui noi quello che vorremmo stimolare è appunto cercare di capire come poi anche elementi che appaiono specificamente locali possono invece essere inclusi all'interno di strategie e di obiettivi internazionali nazionali e internazionali per esempio il marcia a piedi rotto è una delle cose più 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 frequenti l'arredo la città trascurata il marcia a piedi rotto noi abbiamo preso questo esempio del marcia a piedi rotto però uno diceva il marcia a piedi rotto è un fatto locale sì effettivamente è un fatto locale però se uno cade si stroppea si fa male su sta roba e non c'è il servizio sanitario adeguato è un problema che afferisce un problema nazionale almeno o se uno in qualche maniera cade e quindi fa capire che in quel posto non ci si sta bene per capirsi può essere un altro degli elementi che aumenta l'emigrazione da questo luogo per cui anche se tirandola anche se percorriamo strade in cui sono state già percorse dal battito la farfalla in amazzonia che cambia il clima nel mondo effettivamente queste connessioni ci stanno in alcuni casi sono più larghe più lasche in altri casi sono molto più strette e quindi è importante che i nostri partecipanti al laboratorio capiscano quello che è un'azione locale come si collega ad una strategia ad un obiettivo globale a questo punto per far capire la tecnica che stiamo utilizzando sono questi due passaggi da 17 a 4 che poi vediamo e dove li metto che poi vediamo l'attività 3 è l'individuazione vera e propria delle strategie allora se uno chiede ad una persona che strategia va adoperare una persona qualunque ovviamente che non sia un pianificatore o se no uno che è esperto ma certe volte anche ai pianificatori conviene fare queste domande così quello gli dice che strategia va ad adottare lui o non lo sa o parla per frasi fatte a questo punto noi facilitiamo cerchiamo di facilitare il ragionamento interattivo con i partecipanti attraverso tre passaggi passaggio 4 quali strategie il passaggio 5 come ci rafforziamo il passaggio 6 cosa manca e io adesso andrei a vedere le slide successive scusatemi un secondo che mi tolgo un colpo un'attima sola grazie a tutti eccoci qua pronti eccomi qua allora torniamo un attimo indietro scusami o stavate stavate già parlando di questo noi siamo partiti da quelli che sono gli obiettivi delle Nazioni Unite che sono 17 gli obiettivi delle Nazioni Unite che sono state anche presentate all'interno degli incontri fatti in azione 1 insieme sono e riguardano una serie di temi ok e noi abbiamo detto va bene ma semplifichiamo un poco questi temi che ci stanno e ragioniamo su ambiti di crisi e abbiamo aggregato queste strategie vai la prossima in quattro crisi una crisi climatica una crisi economica una crisi demografica e crisi emergenziali mettendoci dentro tutti i fattori che ci stanno come possono essere pandemie modelli di modificazioni climatiche abbiamo visto quante delle delle azioni individuate dalle Nazioni Unite possono afferire a questi ambiti di crisi che abbiamo individuato dove c'è il bianco evidentemente non ci sono cioè non c'è un'azione specifica delle Nazioni Unite che può essere collegata e quindi si differenziano un po' abbiamo notato pure che c'è una quattro cinque azioni sono quelle bordate in blu afferiscono tutte e quattro mi possono afferire tutte e quattro i temi andiamo a pressi a questo punto noi che cosa facciamo abbiamo detto che ci sono questi quattro questo lo facciamo noi insomma entriamo già con queste elaborazioni diciamo che ci sono questi quattro aree di crisi allora il passaggio che noi vi diciamo è dove li metto sia partendo da quelli che sono le vai avanti pure grazie quelli che sono le nostre criticità dove dove li infilo queste criticità ossia la soppressione del punto sanitario che è emerso in uno di questi sono molti laboratori dove li infilo questa storia cioè in quale delle quattro crisi li infilo il fatto che c'è un ripetitore di grande dimensione vicino al centro abitato vicino ai ragazzi in questo caso dove lo metto io questo affare ossia parto dal mio marciapiede e cerco di collegare il mio marciapiede all'interno di uno degli elementi delle Nazioni Unite quindi uno degli obiettivi della Nazioni Unite tanto per far capire anche se poi non sono precise queste cose non è un problema per far capire qual è la connessione che c'è tra un'azione locale ed un'azione globale andiamo avanti e quindi noi ipotizziamo questa parte la stiamo studiando adesso ancora un pochettino sarà pronta per dato che il primo laboratorio il primo incontro del secondo laboratorio si farà il 20 settembre abbiamo ancora qualche giorno poi ci prendiamo una decina di giorni di pausa dopo di che per ragionarci sopra comunque l'idea è quella di avere un tabellone con dei post-it che le persone ascrivono noi diciamo allora questa qui dove lo mettiamo e lo attacchiamo un po' anche se è un po' disordinata sta roba non fa niente l'importante è rendere partecipe e quindi attivare su questo ragionamento i partecipanti a questo punto noi avremo scusa torno di vita all'interno di questi quattro raggruppamenti del tutto fittizi un po' strumentali avremo le nostre azioni ci cambia niente in questa fase poco però nella fase di pianificazione quindi di scelta di azioni può essere che ci cambia in tutti i casi fa un passaggio ulteriore nel rapporto tra l'elemento locale e l'elemento globale situazione locale situazione locale andiamo a questo dopo di che passiamo alle strategie se abbiamo sistemato abbiamo capito che c'è una connessione tra il marciapiede e la salute tra il marciapiede e l'emigrazione che sono temi che sono delle Nazioni Unite seppure è un'iperbole questa comunque è abbastanza perseguibile insomma è corretto adesso andiamo a vedere poniamo delle scelte quale strategia scegliamo allora noi qui ne abbiamo fatte alcune ma vanno modificate ci si deve lavorare solo per esempio che facciamo attendiamo l'intervento pubblico o diventiamo attivi nella ricerca di soluzioni di finanziamenti e uno dice per me facciamo A facciamo B si discute su questi temi o se no si va per maggioranza non maggioranza ma per ragionamenti aperti tutti quanti diciamo così un po' così un po' morbidi non c'è bisogno di contarsi subiamo o stimoliamo subiamo quelle che sono le scelte degli altri o stimoliamo le istituzioni competenti facciamo da soli o cerchiamo alleati ci alleiamo con tutti o scegliamo degli alleati individuiamo quello che debbono fare gli altri o individuiamo quello che possono debbono fare gli altri e quello che possiamo fare noi puntiamo al P puntiamo al benessere di questi ce ne saranno anche altre ovviamente questo che cosa vuol dire vuol dire che facendo solamente semplificando la scelta su due binari quindi o A o B che poi cambieremo non saranno tutti gialli tutti blu insomma cercheremo di fare un po' di confusione per rendere anche più il insomma la discussione un po' più vivace noi anche esagerando qualche cosa in modo tale che si capisca meglio noi a un certo punto alla fine ci troveremo insieme che avremo scelto delle cose per esempio avremo scelto che vogliamo fare da soli per esempio che vogliamo aumentare la pressione sui decisori e che puntiamo al P o se no meglio che diventiamo attivi dalle cerchie di soluzioni che vogliamo lavorare con gli altri e che individuiamo quello che possono fare gli altri e puntiamo al benessere questo ovviamente noi non lo sappiamo adesso lo lasciamo libero al dibattito che c'è però nel momento in cui io avessi scelto di scegliere gli alleati e di puntare al benessere io ho già scelto un pezzo di strategia per cui nel momento in cui io faccio la mia azione dopo e a quel punto dico che io debbo per esempio il mio ragionamento è tutto volto all'aumento dell'occupazione da presidi industriali dico per dire io ti dico aspetta un attimo però tu hai detto precedentemente che dovevamo puntare al benessere il PIL è una parte di questo benessere l'occupazione è fondamentale per il PIL e per il benessere però per esempio un impianto produttivo inquinante non funziona perché non ti fa lavorare ma ti fa morire allora a questo punto io dico dobbiamo aggiungere una parola all'affare industriale quindi dobbiamo aggiungere che noi vogliamo anche degli impianti industriali che però siano ecosostenibili e compatibili che non guaiino il nostro paesaggio o che ne so quello che volete voi quindi io di fatto una volta che ho stabilito qui la mia strategia seppur a grandi linee di fatto sto individuando la tipologia delle azioni che vado a fare e anche questo è una scoperta o una acquisizione di consapevolezza che possiamo fare insieme tutti quanti con i nostri partecipanti andiamo appresso dopodiché abbiamo detto quali strategie però noi ci dobbiamo e finisce là abbiamo fatto questa prima scelta come ci rafforziamo ossia come si rafforza questa comunità andiamo appresso altre mani allora per esempio io dico cambiamo i comportamenti individuali se per esempio io posso in qualche modo essere più aperto verso gli altri sto facendo un rafforzamento della mia comunità se io per esempio sostengo il volontariato io sto facendo un rafforzamento della mia comunità se per esempio organizzo i gruppi di acquisto mi do una mano per la crisi economica non la risolvo la crisi economica badate la crisi economica c'ha altri tavoli su cui si può risolvere però io intanto a livello locale e quindi è un problema globale io però a livello locale intanto mi metto due paletti in maniera tale che mi difenda un pochettino certo non risolvo tutto però il gruppo di acquisto ad esempio ne funziona o se no la microeconomia io cerco di far attivare delle attività che sono direttamente connesse al territorio in cui lavoro per cui se poi a un certo punto è sganciata da quelli che sono i meccanismi inflazionali di inflazione più importanti e quindi io a un certo punto riesco con la microeconomia gruppi di acquisto a determinare un livello di accessibilità alle risorse primarie mangiare bere e via discorrendo che è facilitato rispetto ad un soggetto che si trova in una situazione in cui ci sono dei monopoli in cui tutta la roba che la deve comprare se la deve comprare attraverso terzi e che non riesce ad avere un diretto rapporto con i produttori e quindi di fatto subisce tutte le forme di inflazioni possibili tutte le forme anche di variazioni dei mercati che è possibile e quindi queste sono delle scelte allora qua noi facciamo un elenco di cose che però stiamo studiando perché non lo vogliamo mettere non lo vogliamo dare così ma l'ultima degli ultimi ragionamenti che stiamo facendo è quella di buttarli dentro un calderone come se fosse una lotteria e poi uno di là fuori può uscire una cosa di questo genere o può uscire altre cose che possono essere contrarie anche in questo caso stimolanti insomma in qualche maniera anche divertenti per quanto ci si possa riuscire e quindi questo è il come ci rafforziamo e la scelta abbiamo scelto A e B quelle che sono le soluzioni nostre abbiamo scelto e quali sono le scelte che rafforzano la comunità a questo punto noi il quadro ce l'abbiamo completo perché abbiamo da una parte le risorse da un'altra parte i problemi un'altra parte la scelta la connessione dei problemi alle crisi globali poi abbiamo definito quale strategia a grandi linee ovviamente come ci rafforziamo e quest'ultima cosa che cosa manca è proprio un elenco nel senso che questo è come si fa quando si va a fare la spesa in giro si fa un elenco e poi si capisce se prima di uscire dal mercato dal supermercato dove si sta si vede se tutto tutto quello che ci dovevamo comprare abbiamo comprato in questo caso noi per le varie aree di crisi facciamo un elenco diciamo abbiamo parlato dell'autoproduzione agricola abbiamo parlato di disponibilità del lavoro gratuito abbiamo parlato anche questo va allungato dell'assistenza agli anziani del quasi ne vogliamo parlare se non ne vogliamo parlare siete voi se è il laboratorio che comanda quindi lo cancelliamo finisce lì la storia se però ne vogliamo parlare lo possiamo inserire all'interno e andiamo avanti così quindi è un riassunto di alcune cose in promemoria possiamo anche chiamarlo proprio così in promemoria ok questo è il quadro che noi ci siamo fatti in questo momento sulle modalità di attivare il secondo laboratorio nel primo e nel secondo incontro che è in questo sistema questo sistema lo stiamo ancora un po' diciamo approfondendo l'articolando però dovrebbe essere più o meno questo qua a questo punto una volta che abbiamo raggiunto questa faccenda e che la dovremmo raggiungere entro dicembre verrà elaborato nelle forme più o meno simili a quelle che abbiamo adottato per la restituzione del primo laboratorio e costituirà un secondo capitolo del nostro piano queste cose non sono chiuse quindi voi potete anche segnalarci delle osservazioni per scritto per mail o poi sulle schede che noi vi diamo meglio sarebbe sui questionari che noi vi daremo a settembre in maniera tale che vi daremo a settembre per dirci cosa volete aggiungere cambiare integrare e pensieri vostri per quanto riguarda il primo laboratorio e poi a dicembre per il secondo laboratorio tutta questa roba confluirà poi all'interno del piano che sarà il terzo capitolo ed il piano secondo i programmi che noi abbiamo ipotizzato dovrebbe partire intorno qualche cosina a dicembre casomai gli incontri con noi gli attivatori insomma questi qua che stiamo facendo adesso o se no e poi il resto partirà a gennaio e in due mesi e mezzo tre mesi dovremmo averlo completato scusate ho parlato tanto però mi sembrava opportuno farvi questa presentazione ci avete dei commenti da fare mi sarebbe piacere saperli da chi partiamo da Michele che sta all'aria al fresco che ne pensi Michele a me sembra diciamo non ho non ho da fare osservazioni fondamentalmente se non diciamo qualcosa rispetto a come si è proceduto rispetto alla alla fase precedente nella nostra zona territoriale in cui al secondo incontro abbiamo avuto come penso sappiano diciamo sappia il gruppo di lavoro fondamentalmente una partecipazione molto esigua quindi dobbiamo capire soprattutto come stimolare una maggiore partecipazione alle prossime fasi sapendo anche quali strumenti utilizzare quindi fondamentalmente diciamo le questioni credo siano molto più pratiche che non relative a pratiche rispetto a quello che dobbiamo fare qui che non rispetto a come viene delineato il piano di lavoro generale quindi non ho da fare osservazioni in più ok noi per per quanto riguarda questi problemi noi ci rivedremo sicuramente tutti insieme a settembre per cercare di capire che cosa dove ci sono stati dei momenti di crisi sicuramente abbiamo avuto come segnale che in presenza c'è più gente di quanto non ce ne sia a remoto questo non c'è dubbio e che non non ce la facciamo nei riscontri che abbiamo avuto per i 20 territori non ce l'abbiamo non ce la facciamo organizzarne due di incontri la cosa che sulla qua abbiamo puntato in presenza la cosa che su cui ne abbiamo puntato è il fatto di avere un calendario determinato quindi avere le date del primo e del secondo incontro in maniera tale che chi viene sa quel pacchetto quel laboratorio sa la prima e la seconda data se la punta subito se l'interessa e vi discorre abbiamo avuto dei riscontri particolari nel senso alcune alcune in realtà hanno fatto una grandissima operazione di comunicazione cito Bologna che sono stati molto bravi eppure gli esiti sono stati invece molto blandi tant'è che abbiamo dovuto ripetere il primo incontro in presenza un'altra volta e il secondo è andato molto meglio per cui il tema del contatto e del far venire la gente è sicuramente un tema di delicatezza ma anche quello diciamo di crescita perché poi una volta che uno ha capito questi meccanismi poi può far organizzare con più facilità le cose per cui l'ipotesi nostra è quella che verso settembre è di incontrarci tutti quanti e di affrontare solo questo tema qua dell'attivazione non degli attivatori ma dei cittadini in sé su questo scusami ma provo ad aggiungere anche qualche altra cosa preliminarmente anche noi abbiamo fatto un'opera comunicativa abbastanza intensa sia verso l'esterno dove abbiamo avuto anche qualche riscontro infatti il partecipante che poi è stato al di fuori di noi è stato raggiunto anche se non aveva partecipato al primo laboratorio io credo che diciamo ci siano due fenomeni che sono uno la presenza di tante iniziative molto simili in determinate aree territoriali non nella nostra il caso di Bologna che faccio di tu penso abbia a che fare molto con questo cioè che ci sono delle realtà cittadine che sono già molto attive di per loro e quindi è difficile far passare far sentire l'esigenza di partecipare a momenti che se non si riescono a comunicare in modo diretto in una certa maniera e consegnando nell'importanza il senso c'è il rischio che vengano scambiati per momenti indistinguibili dagli altri per quanto riguarda le aree come la nostra io penso che la questione sia molto più relativa a chiaramente a degli elementi logistici l'online evidentemente non attrae quanto quanto poteva attrare in una fase di pandemia più intensa e più percepita soprattutto e soprattutto diciamo anche per quanto attiene alla presenzialità è molto più facile inserire questo tipo di iniziative all'interno di piani più grandi nei quali poi si può far convergere i partecipanti di iniziative più ampie però questo diciamo penso che dovremmo discutere a settembre in maniera più approfondita perché è da chiarire fondamentalmente sicuramente mi rendo conto che cambia anche un po' la diciamo la conformazione dell'iniziativa sul resto penso che diciamo oltre a questo elemento si possa procedere ci possiamo poi confrontare con le osservazioni da fare successivamente ok ti volevo dire questo che un'altra un'altra nota che tu hai fatto che per di dubbi interesse nel senso che sicuramente noi sulle aree urbane grandi abbiamo avuto più difficoltà ad aggregare questo è sicuro nel senso che come dici te sono piazze in cui si muove tanta gente fanno tante cose poi abbiamo avuto una difficoltà relativa alla stagione per esempio in questo momento ci sono alcune piazze che sono effettivamente difficili da far la Sardegna stanno tutti a mare è proprio complicata farla a Cagliari o nella periferia di Cagliari così come a Siago sono paesi che ci vivono di turismo e quindi di fatto c'è una difficoltà in queste cose abbiamo però anche un ragionamento da fare è il caso per esempio di Roma col quartiere Bastoggi che effettivamente Bastoggi seppure non con grandi numeri però sta affrontando una situazione che ha una sua chiarezza per cui forse anche la determinazione della scala territoriale in cui si lavora e dell'oggetto che uno vuole raggiungere fa la differenza perché per esempio Bologna i nostri amici hanno pensato al centro storico però sono temi veramente molto molto trattati molto trattati anche da altri soggetti quindi effettivamente un po' di difficoltà sono anche nella determinazione del luogo Bastoggi è una periferia di schifo famosa solo per il film per 30 anni abbandonata a se stessa che è molto peggio di come si vede nel film e quindi affronti una tensione sociale molto più vivace molto più forte dire che più vivace però effettivamente entri in un cuore di una questione capito e questo un po' ti facilita poi alla fine se riesci a dare continuità se fai capire che non li prendi in giro va bene grazie Michele allora chi dice altre parole Angela ci vuoi dire qualche parolina buonasera a tutti io posso anche dirvi qualcosa io chiamo Adancona sono Adancona e faccio parte del gruppo di Camerino devo dire che i colleghi sono stati molto bravi perché hanno evidenziato durante i loro incontri parecchie criticità e vedo che sono anche molto 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 sul pezzo io ascolto più che altro perché Camerino la conosco poco ascolto e sono anche abbastanza ovviamente il loro intervento mi porta ad essere molto interessata le cose che affrontano mi piacciono per quanto riguarda io ho avuto due difficoltà la prima è che quando ci sono le riunioni infrasettimanali ho difficoltà perché non riesco a conciliarle con il discorso lavorativo tant'è vero che avevo consigliato a Gabriele Caradori magari le prossime volte io sarei disponibile anche per il weekend anche il sabato il sabato per dire che è una giornata in teoria libera capisco che diventa problematico per tutti gli altri e questo questo è il mio partecipare al gruppo invece per quanto riguarda le iniziative del fatto di trovare delle criticità e cercare anche delle soluzioni vi riporto la mia ultima esperienza per motivi X che non mi sto a raccontare ultimamente la mia famiglia prende l'autobus spesso e ci siamo accorti che ad Ancona le pensilline dell'autobus sono quasi tutte rotte sono andata direttamente dall'assessore e mi ha spiegato una cosa che io non sapevo che ogni pensillina costa 12.000 euro e che quindi diventa un problema intervenire allora ho detto vabbè allora buttiamole togliamole perché così sono anche molto pericolose perché tutte rotte arrugginite quindi in realtà mi sono resa conto che i problemi li possiamo da cittadino li possiamo comunque in qualche modo individuare ma poi diventa veramente molto difficile portare il nostro contributo e ripeto loro sono stati bravissimi quel giorno tra l'altro sono stata anche fortunata perché c'era il geometra del comune dall'assessore e mi ha fatto vedere tutto quello che vi ho raccontato cioè la pensillina costa tanto i soldi non ci sono cerchiamo di fare dobbiamo dare una priorità all'interventi però parlo d'Ancona quindi non parlo del funcro di Camerino era soltanto un voler condividere la mia esperienza sì sì certo questo è molto interessante è importante però uno non è detto che vada in conflittualità con l'amministrazione può anche però costruire una strategia perché uno si domanda perché costano 12.000 euro queste cose e non ne costano 8.000 per esempio e ci sono altre soluzioni a pensiline che costano di meno e c'è un costo troppo elevato perché la ditta appaltatrice la ditta esecutrice hanno fatto levitare i prezzi voi supponete che la prima inflazione che noi abbiamo avuto adesso recentemente quella che stiamo penando è stata derivata dal settore edilizia che ha aumentato i suoi prezzi in maniera spaventosa a fronte dei soldi perché quando c'è soldi c'è l'inflazione quando non c'è soldi l'inflazione non c'è perché ognuno cerca di far levitare il più possibile i propri costi i propri prezzi quindi la prima questione è che quindi un cittadino o un'associazione o un gruppo di cittadini non possono adire all'amministrazione uno siete dei fresconi non sapete fare il vostro lavoro o due cerchiamo di capire perché questa roba costa 12.000 euro e non si riesce a fare con 5 o 7 se bisogna cambiare i materiali se bisogna cambiare le ditte appaltatrici a quel punto uno fa quella pressione sociale per cui si può si può fare qualche aiutarli anche nelle scelte questo è vero non abbiamo la necessità sempre e solo di criticare ma anche quello di agevolare dei percorsi positivi che possono essere attuali e questo le amministrazioni ne hanno tanto se sono dei bravi amministratori ne hanno tanto bisogno perché loro da una parte hanno sempre l'impresa che va a tuppiare l'impresa o l'altro interesse che va a tuppiando e che dice se è passato un anno l'inflazione al 22% quest'altro anno quello affare costa 16.000 euro 18.000 euro 40.000 euro capito a parità di prodotti ma io ero assolutamente impreparata a una cifra del genere non me lo immaginavo assolutamente anche perché poi le pezziglini da sostituire sono di Plexicas non sono neanche di un materiale particolarmente prezioso per cui io sono rimasta ovviamente quando ti dicono così fai un passo indietro non è il mio lavoro ho soltanto avuto il ruolo di segnalatrice è un Angelo secondo me è proprio una questione proprio di cittadini sia del cittadino che si è aggregato in associazione da solo meglio secondo me si è aggregato con altri che proprio interviene su questo ha un diritto di intervenire i soldi pubblici ma anche se fossero soldi privati sarebbe uguale i soldi non si buttano visto che costano tanta fatica del lavoro per farlo quindi è un'attenzione che noi dobbiamo porre va bene Angela ti ringrazio di questa tua segnalazione a voi Gabriele visto che sei stato chiamato citato dice qualche cosa allora intanto volevo dire per i prossimi incontri per rispondere un po' Angela ho visto il calendario sono fissati quindi il prossimo sarà fissato per di sabato diciamo e quindi il primo incontro sulle strategie di comunità quindi mi auguro che avremo modo di poter fare un un bel incontro diciamo in presenza anche con chi magari ci ha seguito a distanza e non ha avuto l'opportunità di essere presente in questi in questo periodo che dire beh insomma la presentazione è bella c'è parecchio da fare mi sembra parecchio articolata io da parte mia insieme agli altri attivatori posso dire che mi piacerebbe è un buon proposito che mi auguro di mettere in pratica insomma di utilizzare quelle schede che voi vorrete inviarci per provare a come dire a dare anche altre a dare ulteriori elementi soprattutto magari attraverso qualche confronto diciamo da qui al al prossimo da qui a settembre diciamo con gli attivatori civici già abbiamo avuto del degli incontri informali e penso che uno scambio tra di noi possa essere proficuo anche per voi per facilitarvi nel come dire nella rielaborazione di quelle che sono le le giornate che noi stiamo organizzando e quindi mi auguro che possa che ci si possa che ci si possa questo è molto l'avevamo detto proprio come elemento introduttivo questo è una cosa che noi auspichiamo nel senso che è quell'elemento di crescita congiunta in cui tutte le esperienze di ciascuno vanno a confluire all'interno di un gruppo di relazioni che poi il nostro obiettivo anche proprio di community pro c'è una formazione c'è un mantenere un minimo comune denominatore sempre uguale per tutti in maniera tale da non perdere nessuno poi le persone i gruppi che hanno maggiore interesse maggiore disponibilità maggiore capacità o scorrendo ci si lavora insieme per ottenere anche degli altri risultati sempre nel quadro di questa di questa attività che però come sappiamo tutti possono essere fortemente integrate da altre faccende o ragionate meglio approfondite l'unica cosa che quindi vabbè a vostra disposizione l'unica cosa che dovete pensare che qualunque incontro facciamo non lo possiamo fare la sera quindi questo è un nodo fondamentale per la nostra esistenza nel senso che noi fino a fine ottobre mi pare questo è Alessandra che è la nostra avete visto Benur quello che c'era il martello che batteva il tempo agli schiavi quello che batte il nostro tempo è Alessandra c'è la faccetta così ma è lei che si dice e quindi io credo che fino a ottobre il nostro calendario sia tutti i pomeriggi di fatto pieni quindi bisogna trovare pomeriggi tardi bisogna trovare degli orari che sono nel primo pomeriggio la mattina presto come vi pare però insomma che non ricalcano su quelli tradizionali delle sei perché non gliela famo insomma ecco quindi dopodiché su questo possiamo fare degli incontri specifici col gruppo possiamo chiamare altre persone allargare il vostro insomma gli attivatori anche qualcun altro che volete possiamo incontrarci anche con altri territori che hanno le stesse vostre interesse a partecipare quindi grandissima disponibilità perché poi l'obiettivo del progetto è questo crescere insieme insomma ecco proviamoci si proviamo grazie grazie posso dire una cosa a me è piaciuto particolarmente diciamo nella presentazione del lavoro sulla strategia questo collegamento diciamo tra il particolare e il globale secondo me serve molto questo questo lavoro perché a volte cioè da una parte il cittadino si trova insomma così nella condizione di pensare che il suo problema sia un problema così diciamo da poco no e dall'altra questi obiettivi di sviluppo sostenibili insomma sembrano così diciamo quasi inarrivabili insomma no proprio perché magari i governi non riescono a mettere a fuoco a mettere a fuoco una politica che possa diciamo così rendere perseguibili quegli obiettivi allora mi è sembrato molto interessante il fatto che magari ecco l'esempio del marciapiede possa diventare intanto per il cittadino un problema che diciamo gli si riconosce una dignità no anche a quella problematica e in più inserirla in un contesto più ampio quindi diciamo così dà anche modo di capire diciamo il personale l'individuale ma anche collegato a una serie di problemi più grandi ecco questo mi piace molto grazie ci fa piacere che questa cosa sia apprezzata perché secondo noi anche anche secondo me è un momento importante per le persone insomma fare questa acquisizione di consapevolezza grazie Natascia che ci sei? momentaneamente assente ci sono ci sei ecco di qua ci dici qualche cosetta? sì seguo l'ultimo intervento perché anche io trovo molto interessante il collegamento cioè l'esercizio proprio da fare come cittadini e quindi dal locale al al globale penso sia un ottimo esercizio mentale quotidiano quindi sì anche se come dicevi tu poi è solo una tra virgolette bozza nel senso che avete intenzione di di sistemarla meglio penso che funzioni come esercizio per per il gruppo insomma grazie grazie sì la sistemiamo però la traccia è quella quindi insomma di fatto il ragionamento è quello lì poi lo dobbiamo sistemare in termini di presentazione anche di strumentazioni per fare lavorare le persone sul laboratorio però la traccia è quella lì mi fa piacere che ti piace poi mi accordo anche a Michele per il discorso per un'eventuale considerazione degli incontri in presenza noi in pratica gruppo Molise abbiamo fatto il vedo che c'è anche Massimiliano abbiamo fatto il primo incontro mappe di comunità in presenza e dobbiamo ancora fissare la data definitiva che sarà di settembre prima del dell'incontro sulle strategie per la restituzione che sarà online quindi ancora non sappiamo online che riscontro avremo per tutti i motivi per tutto il discorso che faceva anche Michele però vediamo e capiamo di conseguenza insomma sì questo è un punto di delicatezza ragazzi quindi questo ne possiamo riparlare ancora insieme a settembre però sicuramente è un punto di delicatezza c'è una perdita di attenzione che deriva anche dal fatto che molte delle persone non hanno la capacità gestionare del computer o non gli va insomma di farlo in remoto che mi sembra del tutto giustificato e che noi non ce la facciamo a organizzare tra l'altro il programma prevedeva che di fatto in l'ultima fase l'azione quella di strategie fosse fatta con un solo incontro e invece noi abbiamo voluto rispostare lo stesso metodo del doppio incontro anche scusate del piano l'ultima fase quella del piano prevedeva nel programma di lavoro che ci fosse solamente un incontro con i cittadini che secondo me secondo noi era sbagliato e quindi abbiamo aumentato gli incontri pure nella seconda fase mantenendo sempre lo stesso meccanismo incontro elaborazione restituzione perché ci sembrava anche quella che una delle fasi più delicate ovvero sia la direzione delle azioni si dovesse fare in questa maniera quindi di fatto abbiamo anche aumentato un pochettino gli incontri però più di tre che poi diventeranno quattro che poi ci sarà un momento di consegna finale di questi lavori in presenza non ce la facciamo però questo non toglie che poi casomai uno possa fare anche degli incontri aggiuntivi a livello locale se se lo organizza noi abbiamo da remoto vi sosteniamo come 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 volete insomma quindi se uno a un certo punto nell'ultima fase vuole aggiungere qualche altra cosa come incontri pubblici noi siamo contentissimi insomma questo anche per sì Maria Chiara scusa volevo solo aggiungere che noi abbiamo parzialmente risolto questa cosa con una specie di modalità mista cioè abbiamo cercato anche così col nostro incontro online in realtà poi l'ha fatto materialmente solo Gabriele erano tre o quattro persone nello stesso posto a seguire l'incontro però avevamo pensato poi ci siamo diciamo parzialmente riusciti ma avevamo pensato di fare l'incontro online creando magari un paio di chiamiamole così postazioni in cui si potessero riunire un numero maggiore di persone particolarmente pensando a quelle che appunto magari sono più anziane o non sono diciamo molto come posso dire non facilmente meno confidenti con gli strumenti meno confidenti quindi forse questa potrebbe essere un po' si riesce potrebbe essere una soluzione qual è stato il problema della prima fase perché noi abbiamo ipotizzato questo lavoro con uno del gruppo in presenza e gli altri da remoto e in realtà noi sui 15-16 di incontri fatti abbiamo potuto partecipare pochissimo perché da remoto perché non tutti i luoghi c'era una connessione non tutte le connessioni funzionavano non c'erano gli amplificatori non c'era la possibilità quindi di interagire con i presenti questo ha fatto sì che di fatto molte elaborazioni le abbiamo poi dovute rifare sulla base un po' delle registrazioni un po' degli appunti di raniero un po' delle cose che ci dicevano gli attivatori perché in realtà in alcuni casi non c'era proprio connessione questo vuol dire che non si realizza una interazione paritetica tra le persone gli attivatori in quel caso anche noi e le persone presenti sul luogo e questo destabilizza poi il rapporto elaborativo non so se mi chiede quindi primo non abbiamo non abbiamo avuto non abbiamo la possibilità di farle tutti in presenza secondo non abbiamo i soldi per farle in presenza terza non abbiamo le connessioni tecniche che garantite dal livello locale che ci possono farle fare in un misto presenza e remoto però se voi organizzate questa soluzione in cui ci organizziamo a piccoli gruppi l'abbiamo già in alcuni dei secondi incontri sono stati fatti già anche così per cui a Acre mi pare che c'erano tre posti in cui si radunavano diverse persone quindi uno era con più numeroso in altri due erano con due persone insomma quindi questa parte qui queste cose intermedie vanno bene poi noi riteniamo che a un certo punto quando dopo un po' che ci conosciamo che abbiamo lavorato insieme che sappiamo ragionare che abbiamo ragionamenti comuni poi a quel punto se uno si vuole organizzare un incontro ulteriore per a livello locale in presenza non ci sono problemi non so se mi spiego nel senso che è una delle cose che si può fare comunque la soluzione intermedia mezza e mezza come si dice è praticabile l'abbiamo sperimentata e funziona insomma funziona abbastanza bene insomma c'è quell'interazione paritetica che ci consente a noi di intervenire di ascoltare di capire quello che viene detto e di poi trascodificarlo tradurlo in quegli elementi di restituzione che avete visto va bene grazie grazie Natascia Sonia ci dici qualche cosa bene adesso ho visto che è entrato anche il mio compagno attivatore della Valcellina Matteo vai Matteo lo vediamo eh sì lui abita proprio abita proprio nel nel posto giusto io sono a 20 chilometri diciamo a Pordenone lui è proprio nella Valcellina quindi sicuramente conosce il territorio più di me io da turista lui proprio da abitante va bene però si lavora anche a me lo stesso perché alla fine siamo della stessa provincia non è che c'è comuna almeno quello per quanto riguarda il coinvolgimento con le persone ritengo che sia un lavoro duro da fare anche se fino adesso vedo che in generale tutti hanno riuscito a fare almeno il minimo dispensabile anche Matteo è stato abbastanza contento mi sembra che ha avuto una ventina di persone in presenza però è importante che ci siano piuttosto che insomma 20 persone non sono poche secondo me di riunire da riunire le criticità del territorio sicuramente vengono segnalate dai cittadini giornalmente perché io sono un amministratore di un comune di 12.000 abitanti sono una consigliera comunale all'opposizione chi meglio di me può vedere diciamo l'altra faccia della medaglia no? perché la maggioranza è tutto bello ma io ho un'altra veste ho la veste opposta quella di di fare opposizione di vedere cosa c'è che non va la signora che ha parlato prima della pensilina dell'autobus ecco l'Angela l'Angela sì queste sono delle criticità delle città ovviamente ma lei ha parlato con l'assessore competente l'assessore della maggioranza quindi lui dice è la maggioranza lui dice questo è interessante parlare anche con chi è dall'altra parte della barricata cioè lavorare insieme sì ma fare opposizione è anche questo riuscire a coinvolgere i consiglieri comunali che stanno all'opposizione delle criticità del territorio fare delle segnalazioni assolutamente e non parlare al bar perché al bar non si combina niente io l'ho sempre detto da quando facevo da quando ero i miei figli erano a scuola quando facevo la rappresentante di classe dicevo sempre alle mamme non parliamo fuori dalla scuola veniamo le riunioni parlate con gli insegnanti quando è ora confrontiamoci perché parlare fuori dalla scuola o andare al bar a bere il caffè non va bene quindi secondo me riuscire a coinvolgere il cittadino delle cose proprio basiche che può essere veramente il marciapiede e non è poco un marciapiede rotto il marciapiede rotto porta delle gravi conseguenze sia ai bambini sia alle persone adulte anche agli alti anni o qualsiasi all'endica agli passeggini cioè non è una cosa da poco e quindi anche nel territorio della Valcellina tutto l'elenco che abbiamo fatto la scorsa settimana diciamo che cercare di far riunire più possibile e appunto gli abitanti insomma cercare di coinvolgerli e penso che secondo me non è che se ne freino è solo un po' di pigrizia e basta sì sì Sonia è vero quello che dici è così un po' c'è un po' di pigrizia c'è un po' di diffidenza però insomma i risultati che noi abbiamo anche i vostri quello di Matteo quello che avete fatto voi sono del tutto incoraggianti certo si può migliorare per carità però insomma mi sembra che voi siete andati bene come anche altri insomma quindi noi ci siamo ci sono due o tre criticità che sappiamo già e che sulla quale stiamo lavorando però va bene del resto noi lo sappiamo insomma coloro i quali si interessano di queste cose sappiamo pure che bisogna in qualche maniera la fidelizzazione delle persone è complessa ossia le persone si debbono fidare di coloro i quali propongono le cose e propongono anche i ragionamenti e acquisire questa questa status non è semplicissimo si fa col tempo si fa con con le cose perché sennò c'è una naturale diffidenza nei confronti di qualcuno che ti viene a dire delle cose anche se lo conosci che però ti impegnano in qualche modo devi stare intorno a un tavolo o ragionare insomma perdi il tuo tempo che puoi andare a vedere le partite dei palloni non so giocare a videogiochi non so quindi comunque sono sempre delle scelte che hanno bisogno di maturazione secondo me il fatto che si sta dando continuità che questa è un'operazione che dura sette mesi otto mesi nove mesi di progetto e che poi può continuare questo dipende dagli attivatori secondo me è un elemento di consolidamento personale e insomma degli attivatori all'interno del territorio l'occasione è buona però è chiaro che la presenza e la continuità della presenza è quella che poi garantisce gli altri cittadini il fatto che non hanno perso tempo con noi Matteo scusa Sonia sono mi penserebbe riuscire a coinvolgere sì che facciano parte proprio del territorio non solo per le lamentele proprio anche per anche i giovani sì mi piacerebbe che ci fosse tanta più partecipazione come Matteo stesso Matteo stesso è un esempio lampante sì però noi sappiamo adesso ci diamo la parola Matteo sappiamo che difficoltà abbiamo in questo momento non noi ma insomma il paese tutto di fronte all'impegno sappiamo che ci sono tante cose che stanno funzionando non bene che ci sono tanti tante disattenzioni tante superficialità io credo che sia un buon obiettivo che bisogna lavorarci con con calma con anche con un po' di di tranquillità nel senso che poi la ricostruzione oggi noi finisco poi passo la parola a Matteo scusa oggi noi viviamo anche di tanti successi che sono stati raggiunti nel passato da e poi sono le eredità che ci portiamo no e bisogna costruire le eredità per gli altri quindi bisogna in qualche maniera avere tutta la calma e la lucidità per poter seminare delle cose che oggi insomma sono un po' già state colte perché se riseminarle di nuovo quindi in qualche maniera arare di nuovo i campi metterle insieme avere tanta pazienza perché per tanti anni abbiamo vissuto di rendita come si dice come dicono tutti i vecchi sempre insiste ragazzi non ci si può distrarre Matteo prego innanzitutto scusatemi se mi sono collegato dopo e che sono lavoro no niente diciamo che riguardo il progetto iniziale quello che abbiamo fatto io e Sonia secondo me abbiamo fatto un progetto che è partito mi viene da dire al contrario nel senso che ho avuto fin da subito un grande appoggio da parte di quelle che sono le figure istituzionali dei comuni ho parlato con i sindaci con i consiglieri e devo dire che è grazie a loro che nel primo incontro abbiamo avuto diciamo così molta affluenza rispetto al secondo per quanto riguarda la partecipazione dei giovani giustamente come diceva Sonia e ribadevi giustamente tu sarebbe importante che i giovani partecipassero però io credo che per quanto riguardi la zona della Valcellina sia una una zona scarna di giovani quindi ci siano poche persone giovani effettivamente quindi il target su quello che noi possiamo puntare effettivamente va dai 35 anni in su quindi persone al di sotto di questa soglia di età non credo che parteciperanno quindi sono un po' ero positivo ero molto positivo per il primo incontro perché eravamo partiti abbastanza bene poi il secondo purtroppo siamo andati un po' va beh Matte t'ho visto già la faccia te l'avevo vista già l'altra volta che ti preoccupa non te ne fa va bene è giusto non ti abbatte è giusto casomai per esempio se noi adesso vediamo che c'è questo che abbiamo come obiettivo quello dei giovani per esempio e non riusciamo a contattarli si possono anche organizzare delle cose specifiche per loro per esempio nuove occupazioni sul territorio titoli che in qualche maniera possono destare un interesse specifico per quel tipo di categorie poi ci inventiamo qualche cosa ci facciamo venire una persona due persone che sanno parlare di questa roba ci inventiamo qualche cosa però possiamo anche costruire dei prodotti questo è un po' è anche una formazione diciamo dell'attivatore nel senso che gli strumenti che noi abbiamo predisposto sono di un certo tipo ma non sono gli unici per attivare la gente ci sono forse anche dei migliori quindi uno nel momento in cui senza come c'è abbattersi capisce perché sta lavorando bene stiamo lavorando bene siamo contenti capisce che c'è un gruppo di persone che non sono state adeguatamente attivate e sicuramente il vostro territorio è un territorio che ha avuto forte migrazione ha avuto di tutto ma anche forte migrazione quindi è chiaro che i ragazzi preferiscono andarsene fuori altrove se ne sono già andati i loro genitori quindi c'è lo capisco lo conosco e lo capisco però uno può inventarsi qualche cosa che proprio li stuzzichi a partecipare a quel punto uno li aggancia e poi piano piano vedi che cosa fare quindi facciamo passare un po' di tempo portiamo avanti poi a ottobre novembre vediamo anche come sono andati l'altro laboratorio e poi nel caso uno si dice oh ragazzi mi manca sto questo gruppo di persone che per me sono fondamentali che ci inventiamo se fossero vecchi potrebbe essere sto scherzando ovviamente le bocce e un bicchiere di vino a gratis tutti insieme se sono giovani bisogna raggiungerci un po' meglio vediamo che cosa inventarsi però è proprio solo le bocce e il bicchiere di vino per gli anziani non voglio ovviamente denigrarle che dobbiamo inventarsi per i ragazzi che ovviamente devono essere delle cose collimanti con quello che facciamo se un elemento se parli di salute per esempio per capirsi tornandoci dalla metafora della boccia del vino la salute sicuramente gli anziani sono più sensibili se tu lo dici a un ragazzo che sta nella piena della forza non ce l'ha proprio come orizzonte del ragionamento e quindi può essere che dobbiamo parlare che ne so di altre cose di mobilità di pullman di lavoro di occupazione di qualificazione di evitare l'emigrazione rimani qui con altre forme di lavoro ragionarci insieme però possiamo inventarci queste cose poi chiediamo a qualche tecnico a un amministratore che possono fare dei ragionamenti o qualcuno da fuori che lo facciamo venire per essere un po' più attrattivo insomma l'esterofilia è sempre presente in tutti i territori per cui ci inventiamo qualche cosa e le agganciamo in qualche forma scusami Adriano posso fare questo appunto ecco io non siccome la nostra è una zona diciamo abbastanza piccola con bassa densità siamo sotto le 5.000 persone sicuramente ne sei già a conoscenza sai che da noi rispetto alle altre diciamo così agli altri attivatori che svolgono questo lavoro in grandi città da noi sono stati fatti molti progetti quindi da noi le persone sono maggiormente dubitanti nei confronti di ulteriori progetti perché dicono intanto questo come altri dieci che sono già stati presentati negli anni passati da parte di politici per campagne elettorali eccetera verrà poi effettivamente abbandonato e non porterà nulla questa è diciamo così è il muro che mi trovo io di fronte e faccio fatica anche giustamente a gestire perché non è insomma non è il mio ruolo non vendo non vendo anche questa cosa per esempio Matteo che tu ci dici è un'altra cosa ancora diversa che però anche questo è molto importante è quella che ci dici perché è una cosa e sono le linguaggi che possono essere fatti con diverse fasce sociali di età questo che tu ci dici è un problema esteso a tante situazioni ossia le situazioni in cui ci sono tante questioni in corso tanti progetti fatti e tante anche spesso dei rammarici per cose non portate avanti questo è di fatto noi abbiamo solo due possibilità la prima è quella di far capire che noi stiamo predisponendo non un progetto ma un metodo e per cui quello che noi vogliamo dare è la capacità alle persone di auto-organizzarsi quindi non ti do una soluzione configurata io ti sto in qualche forma dando delle strumentazioni per poter avere tu scegliere tu il progetto che puoi fare quindi essere tu attore di questo progetto e in questo noi possiamo anche aprire un ragionamento a fornire elementi conoscitivi vogliamo parlare della progettazione europea vogliamo parlare di progetti come si fanno a fare i bandi di gara vogliamo parlare di come si acquisiscono i soldi siamo capaci proprio siamo capaci noi proprio in prima persona questa è una cosa per esempio che a un giovane può interessare per esempio per capirsi però noi non facciamo non facciamo un progetto noi stiamo cercando di dare delle strumentazioni per fare progetti e questo è il prima questione la seconda questione secondo me si risolve solamente con la fiducia nelle persone e quindi e tu sei sicuramente sei una persona degna di fiducia e quindi nel dire delle cose chiare senza evidenziare altre possibilità oltre quelle che noi abbiamo e quello di dare una continuità è lì che si passa la cosa noi che posso dirti il primo incontro che abbiamo fatto seppure parlando in tempi rapidissimi il primo incontro che abbiamo fatto a Bastoggi uno dell'associazione una delle associazioni presenti si è alzato e se ne è andato dicendo che quando ci sono le cose concrete da fare di chiamarlo perché non era interessato a questa roba ovviamente l'ha detto in romanesco in romanesco di una periferia degradata quindi diciamo anche era pure piuttosto incazzato diciamoci la cosa si è alzato in piedi ha alzato la voce ok dopo di che si è andato il secondo incontro è venuto a partecipare capito per cui c'è anche la possibilità di perché non ha capito bene capito il primo era dicessori soldi il secondo ha detto ma avevamo cambiato postazione non era più al chiuso era all'aperto per esempio l'abbiamo fatto all'esterno come se fossimo lì a parlare perché avessi tra noi come quattro amici e passavano la gente si fermavano a suo tavolo e è passato pure lui si è fermato a quel punto ha capito che noi non avevamo un progetto nel cassetto da realizzare che non lo facevamo per la nostra vantaggio stavamo lì chiacchierando e lui ci ha dato poi indicazioni e altre cose per cui il rapporto di fiducia bisogna costruirlo quell'altro invece bisogna interessarlo e quindi possiamo trovare delle soluzioni che possono interessare gli altri anche parlando di strumentazioni noi forniamo strumentazioni non abbiamo progetti comunque Matteo poi ne riparliamo di questo e possiamo Angela al volo perché sono meno cinque guarda l'esperienza di casa mia dunque la trasmissione filo rosso condotta da Zanchini ogni martedì sera su Rai 3 ha fatto un esperimento con i giovani cioè ha selezionato dei giovani tra cui c'è il mio figlio ancora studente universitario del Politecnico di Milano e loro costruiscono settimana la trasmissione i ragazzi sono per esempio mio figlio è ingegneria gestionale però stasera interverrà perché c'è mercato si parlerà di clima e quindi in qualche modo la stanno costruendo tutte le settimane e i ragazzi in qualche modo vengono viene suscitato proprio l'interesse quindi probabilmente c'è questa attenzione hanno un ruolo molto marginale perché le ore di diretta sono danno moltissimo spazio al ovviamente agli ospiti però piano piano stanno cercando di coinvolgere anche i ragazzi sono tutti studenti stanno facendo questa sperimentazione anche loro si stanno sperimentando e vedo che ha abbastanza successo queste sono cose molto interessanti grazie Angela queste sono cose molto interessanti di cui possiamo riflettere in futuro va bene allora se non ci sono altre osservazioni io vi ci saluterei e ci vediamo a settembre vi auguro vacanze ottime buonissime meravigliose e poi i primi di settembre adesso non mi ricordo quando sono i prossimi appuntamenti ci vediamo e anche facciamo un ragionamento sulle diciamo le sensazioni che hanno le richieste diciamo di approfondimento di dettaglio che avete fatto Michele Matteo Natascia insomma tutti voi ci avete stimolato a fare Gabriele ci avete stimolato a fare dei ragionamenti va bene allora un bacione alla prossima ciao a tutti grazie a tutti